Lo so che siete tutti molto stanchi, ma siamo qui perché il nemico, in pari che nessuno, può aggredirci impunemente. Soldati! Questo sarà il giorno della vittoria! Il tenente Minoff è uno dei migliori ufficiali dello Tsar. Shura, questo è il tuo primo ballo, non ti senti emozionata? Non lasciarlo trasparire, datti un contegno. Scegli bene con chi ballare. Signorina, sono il tenente Minoff. Se voleste ballare con me stasera, mi rendereste molto felice. Con molto piacere. Appena lo vedi, non ti pare che attorno a lui piova una cascata di stelline e non ti senti rimescolare dentro? Sura mi ha rubato il cuore. Le appartiene ormai. E sono sicuro che provi lo stesso sentimento per me. E' vero che vi chiamano lupo? Eccola, eccola, è arrivata! A Mosca, a Pietrogrado, puoi avere tutte le donne che vuoi. Sei giovane, divertiti, ma alla fine... La tua sposa dovrà essere una donna turca. La mia volontà è questa. Non puoi pensare di fare sul serio con Shura. Tuo padre non l'accetterà mai, Seid. Se l'amore ti spinge a infrangere ogni regola e a fare cose di cui non ti ritenevi capace, dovresti starne il più lontano possibile. Non posso farti nessuna promessa. Te lo giuro sul mio onore. Ti farò dimenticare, Seid. Seid! Una storia d'amore travolgente, tra mille ostacoli e difficoltà. Una passione avventurosa, che supera ogni confine e sfida tutti i conflitti. In prima assoluta, da venerdì 9 giugno, su Canale 5, la ragazza è l'ufficiale. Grazie a tutti.